Ah, il trucco! Ci torna sempre utile, vero? Ma se il trucco si animasse, e se fosse una persona, come sarebbe il loro mondo? Ah, che noia! Ehi, se vuoi una manicure, siediti qui! Pensi di potermi aiutare con queste? Sì, da qui. Non sono poi così male. Dovrò limarle un pochino. Ok, è ora di demolire. Dovrò usare i miei utensili di precisione. Eh sì, dovrò fare bene i calcoli. Cominciamo. Ci diamo da fare adesso. Avrò bisogno di qualcosa di forte. No, non la presa, ma la sega! Oh, che lavoraccio! Ok, ok, va bene. Si ricomincia. Eccoci qui. Ok, fatto. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ehi, mi piacciono, grazie! Ecco la sua paga. Novantanove e cento. Ok. Adesso le pinzette. Uh, non vedo l'ora di risplendere! Oddio farmi le sopracciglia. Che dolore! Ok, sopracciglio, ti darò una bella forma. Sì, ottimo, direi. Ma quanti peli! Non posso smettere ora. Perché non ho le sopracciglia perfette? Non c'è nessuno. Cosa? No! Fermati, fermati! Ci sono! Au, che male! Ho visto delle cose terribili. Non ho firmato per questo lavoro. Ma almeno adesso sta bene. Fatto? Ok, grazie. Sei stato bravissimo. Buona giornata! Salve, sono qui per le foto. Ma certo, siediti. Ok, sono pronta. Ti incipriresti il viso? Oh, ma certo, sì. Ho cipri e pennello proprio qui. Ok, sono pronto. Nessuno ha i capelli più belli dei miei. Ci vorrà solo qualche minuto. Oh, come mi diverto! Devo scrollare via l'eccesso così. Niente più viso lucido. Verrai stupenda in foto. Scusami. Ok, sono pronta. Va bene, se lo dici tu. Allora, dici... Sì, entra pure. Sei la prossima a passare sotto lo scanner. Wow, aspetta qui. Ah, no! Dovrai ritoccarti gli occhi se vuoi entrare. Oh, mi scusi, ma certo. No, il mascara si è seccato! Oh, come secco qui! Acqua, mi serve dell'acqua. Oh, no! Addio! Mondo crudele! Come farò? Ehi, aiutami! Un po' d'acqua dovrebbe aiutarti. Tieni. Oh, acqua! Idratazione! Va molto meglio. Aspetta. Fammi controllare. Molto meglio. Adesso puoi entrare. Tutto ok. Mi piace questo lavoro, anche se è un po' bizzarro. Mi sono ben riposata. Devo cominciare la mia giornata. Ma dove sono gli occhiali? Molto meglio. Dai, pantaloni! Questi orecchini mi stanno benissimo. E adesso le lenti a contatto. Come vorrei non doverle mettere. Qua, qua, paperella. Ok. Adesso mai più. Ho freddo e sono secca. Farò in fretta. No, rimettimi a posto. Non voglio stare nel tuo occhio. Basta. La rimetto a posto. Ah, casa dolce casa. Oggi metto gli occhiali. Ci è mancato poco. Oh, grazie mille. Ma perché ci mette così tanto? Intanto controllo il trucco. Accidenti! Ma che cavolo? E' quello quando è uscito. Devo liberarmene subito. No, no! Lasciami stare! Aspetta, sto facendo solo peggio. Vediamo. Devo nasconderlo in fretta anche. Userò il fondotinta. Non troppo, però. Devo solo coprirlo. Ecco. Ho del lavoro da fare qui. Sì, mi piace. Deve essere tutto coperto. Dovrò fare una seconda mano. Molto meglio. Oh, eccola! Appena in tempo. Stai così bene. Ti ho preso questi. Ho dormito benissimo. Adesso ci vuole una bella doccia. Adoro il profumo dello shampoo. Così tanta schiuma. Adesso ti aiuto a pulire i capelli. Un massaggio al cuoio capelluto fa sempre magie. Ma che faticaccia. Non dimentichiamo le orecchie. Oh, gli occhi! Devi pulire anche gli occhi. Ah, proprio così! Adesso va molto meglio. No! La mia Nemesi! L'acqua! Meno male. La lezione è finita. Metto via il libro adesso. Oh, mio Dio! Com'è carino. Devo sistemarmi. Ah, forse devo aggiungere qualcosa. Una spruzzatina di profumo aiuterà di sicuro. Ehi, sono qui per aiutarti, dolcezza. Non sono meraviglioso. Spruzzami ancora, spruzzami! Ok, sono pronta. Ah sì, che buon profumo. Ottimo lavoro. Wow! Senti anche tu questo odore? È troppo forte! Salve, piacere di conoscervi! Se potessi dare vita a un cosmetico, quale sceglieresti? Facci sapere nei commenti! Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo! Ciao! 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 Grazie a tutti